Si sono appena terminate le esecue del Vescovo Silvano Montevecchi, il capo della diocese ascolana, che è venuto a mancare lo scorso venerdì notte all'età di 75 anni dopo una lunga malattia. Le esecue sono state tenute ieri a Faenza e sono state tenute anche oggi qui ad Ascoli, dove il Vescovo aveva lavorato per molti anni, dal 1997. Le esecue hanno anche visto una grossa partecipazione di pubblico ascolano e non solo, davanti a moltissime autorità civili e religiose. Abbiamo anche intervistato alcune esponenti della società civile ascolana che hanno dichiarato il loro ricordo del Vescovo Montevecchi. Il ricordo più nitido è quando comunicai al Vescovo Montevecchi l'intenzione del Consiglio Comunale di insegnare della cittadinanza oraria ascolana, proprio questo pastore che ha creato tante cose concrete e utili, da un punto di vista materiale, ma che ha anche sedimentato una grande cultura, un grande processo di umanizzazione del nostro territorio. Un rapporto speciale fra una città, un territorio speciale e una persona straordinaria, semplice, umana, capace di grande sapienza, ma anche di grandi concretezze. Quindi veramente è stato un grande dono di Dio averlo avuto. Io lo ricordo con piacere perché ricordo questa impressione di un uomo dal cuore puro, dallo sguardo limpido, dalla grande saggezza e davvero ogni volta che lo incontravo, comunque ogni volta che sentivo le sue parole ricevevo sempre degli insegnamenti grandi, sia come persona che anche come amministratore. È stata sicuramente una grave perdita per il territorio, era una persona che stava vicina al popolo e al mondo del lavoro, particolarmente in questo ultimo periodo, ha fatto sentire di più la sua presenza, proprio per il periodo di crisi che sta vivendo il territorio, e quindi sicuramente abbiamo avuto una grave perdita. Il rito funebre è stato celebrato da Monsignor Luigi Conti, l'amministratore della Diocesi di Ascoli, presente anche alla celebrazione i vescovi originari della Diocesi. Ricordiamo che Monsignor Montivecchi è stato colpito da Ictus lo scorso marzo, e da lì non si è più ripreso. Gremito è il Duomo anche nella scorsa notte, quando ha avuto luogo una veglia funebre, che ha visto la partecipazione di alcune associazioni come l'Unitalsi. Attualmente la Diocesi di Ascoli è a sede vacante e si aspetta la nomina del nuovo vescovo, attesa forse per il prossimo mese di novembre.